Buonasera e bentrovati al nostro TG Sport. Jerry Blakes è il nuovo innesto di Estra Pistoia dopo l'infortunio di Jordan Varnado che si era infortunato appunto a Milano e è arrivato in città e ha preso parte questa mattina alla seduta di allenamento con la squadra. La guardia americana, già noto a coach Nicola Brienza durante l'esperienza a Cantù, era già stato accostato al club bianco-rosso questa estate concretizzandosi in un nulla di fatto, tornando forte negli ultimi giorni. Il tecnico dei Toscani ha fortemente voluto Blakes che sarà presubilmente a sua disposizione già dal prossimo impegno di Pistoia, quello di sabato, a Casale Monferrato contro D'Artona. I Toscani saranno chiamati ad affrontare la formazione piemontese anche senza Ryan Hawkins a causa dell'infortunio rimediato dall'ala bianco-rossa sabato scorso contro Napoli. E noi vediamo proprio le immagini del primo allenamento in bianco-rosso di Blakes. E dalla palacanestro noi passiamo al calcio, andiamo in Serie D, si lavora in casa a Pistoiese, c'è da preparare la sfida di domenica al Marcello Melani contro il Sant'Angelo, un altro appuntamento da non fallire. Forte di un quarto posto in classifica, a meno 4 dalla capolista Ravenna e con alle spalle ben 5 risultati utili consecutivi, la Pistoiese è tornata al lavoro in preparazione per la sfida di domenica al Marcello Melani dove arriverà il Sant'Angelo. Sul campo la squadra, che è stata sottoposta a molti sacrifici anche fuori dal campo, dove ha dovuto affrontare momenti delicati, ha dato ottime risposte e più di così forse era troppo chiedere. Nelle ultime 5 partite, da quando mister Luigi Consonni è stato richiamato sulla panchina arancione, ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio. Vanno esaminate tutte, anche in considerazione delle avversarie. I successi sono stati Concertaldo, Prato, Borgo Sandonino e San Giuliano City, nel mezzo il pari con il fanfulla. Ma sta di fatto che contano i punti e l'ultimo periodo è stato proficuo. Certo gli arancioni devono continuare su questa strada senza permettersi di sbagliare. Una rosa che dovrà essere rinforzata in ogni reparto, considerando che è corta ma anche molto giovane. E se si vuole continuare ad accelerare la corsa verso il primo posto, si deve intervenire in questo momento di calciomercato. Fermo restando che nella crescita della Pistoiese sul piano del gioco, protagonisti sono stati anche i giovani alla corte del tecnico. Ma il campionato è lungo e non si possono chiedere ancora straordinari a chi ha giocato fin da inizio stagione con continuità. Il futuro arancione vedrà Caponi e compagni affrontare, come detto, prima il Sant'Angelo in casa, poi trasferta a Corticella per tornare al Melani contro il Lentigione, la sfida con cui si chiuderà il 2023 e la fine del girone di andata. Questo scacciando anche altri pensieri che sono tornati a disturbare la mente dell'entourage orange e di chi ha a cuore le sorti della Pistoiese. La notizia dei giorni scorsi che l'US Pistoiese 1921 non gestirà più il Melani non è così positiva. Per mancato possesso di requisiti di ordine generale, si legge nella determina del comune di Pistoia. Ora tutto è in mano all'amministrazione comunale, quindi vedremo quali scenari si potranno aprire. È un po' di rally perché la Pavel Group ha scritto una pagina della storia rallistica. Il 14enne Lorenzo Lenzi è la pilota più giovani del rallismo italiano. Per lui un debutto importante al race circuit di Pomposa sulla Skoda Fabia R5, la serie che si svolge in Croazia ma che ha sconfinato in Italia appunto a Pomposa, in provincia di Ferrara. Lenzi, che vantaggia oltre un anno di esperienza nel tricolore di kart, figlio e nipote d'arte, è stato affiancato dall'ecopilota lucchese Federico Grilli finendo la gara in quarta posizione assoluta. Il 2023 per l'Atletica Pistoia è stato un anno indimenticabile. La società ha festeggiato presso i locali del Signorino e 12 mesi fatti di soddisfazioni per i master che l'hanno portata a primeggiare in tutto il mondo. Con il suo presidente, l'88enne Remo Marchioni, laureato di campione europeo dei 400 metri, campione continentale della staffetta 4%, argento e bronzo europeo rispettivamente nei 200 metri e nei 100 metri, tre ori, quattro argenti e due bronzi agli italiani tra indoor e all'aperto e detentore anche di tanti altri record mondiali. E poi la grande atleta allenatrice Maura Vignali, campionessa tricolore invernale di lancio del martello e martellone, oltre ad altri titoli anche per lei. I complimenti ovviamente li meritano anche tutti gli altri atleti che hanno arricchito la bacheca di questa società. E al dopolavoro ferroviari di Pistoia c'è stata la premazione per il torneo interaziendale, una delle più importanti manifestazioni amatoriali di gruppo a livello provinciale. Il circolo aziendale Tempo Libero Caripit vince il torneo interaziendale per il secondo anno consecutivo. Secondo il carale Itaci, terzo l'Asde Toscana Centro, quarto il carale Autolinea Toscana è seguito da quello dell'Inps e dal dopolavoro ferroviario. Il torneo interaziendale è nato nel 1980 e è una delle più importanti manifestazioni amatoriali di gruppo a livello provinciale. Durante tutto l'anno i principali circoli aziendali si affrontano in varie discipline sportive determinando la classifica finale. Il TIP adesso è composto da sei circoli, l'Inps di Pistoia, il Cetle Caripit, la Soline Toscana di Pistoia, l'Itaci Pistoia, il DLF Pistoia che si affrontano in 11 tornei e queste sono 11 competizioni, sono la pesca, il bowling, il tiravolo, il pade, il podismo, il tennis, il burraco, il tennis tavolo e il bowling femminile e poi pittura e foto. Come vedete questi ultimi due tornei, con questi due tornei noi apprendiamo anche la versione culturale. Il grande salone del dopolavoro ferroviario di Pistoia ha ospitato la premiazione con oltre 150 soci presenti. Oltre ad aver alzato la coppa, come avete potuto vedere, c'è anche un'aggregazione che dura tutto l'anno e quindi nei vari mesi che si susseguono queste competizioni ci vediamo, ci troviamo, ne discutiamo, scegliamo i vari competitori per gareggiare a ogni singola manifestazione e questo ci tiene uniti. Il nostro CRAL funziona molto molto bene e questa cosa fa sì di aver raggiunto determinati risultati. Noi siamo contenti, soddisfatti e chiaramente alzare la coppa è la cosa finale che credo è soddisfi tutti. E per lo sport è tutto, restate con noi per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti e a tutti voi una buona serata.